Ebbene sì, scommetto che non ci credevate neanche voi, ma è arrivato il momento del Bookshelf Tour. Quindi niente, iniziamo subito perché l'avete già aspettato anche troppo, prendete un tefio stile alla pesca con un tocco di rosa e iniziamo subito. Allora, qui abbiamo una libreria che probabilmente avrete già visto perché era anche nell'altro Bookshelf Tour e non è cabetta praticamente per niente. Quindi qua abbiamo una sorta di altarino Marvel con alcune riviste, Loki di McKinsey Lee, una stampa che davano al cinema per Endgame. Poi abbiamo il Pop Funko di Loki, alcuni DVD perché come sapete mi piacciono molto le cose vintage. Qua abbiamo una borraccia dei primi dieci anni del Marvel Studios che non funziona come borraccia quindi va bene. Lì avevo fatto una cosa di Iron Man di Lego che ora si trova qui a pezzi, un po' come me. Qua abbiamo una tazza che queste praticamente come potete vedere sono delle facce bellissime, sono le reazioni mie e delle mie amiche al trailer di Endgame, il primo. L'abbiamo filmato, io ho detto no ma che belle facce e una cosa tira l'altra e a Natale ho regalato questa tazza a tutte le mie amiche. Non è stata l'unica cosa che ho regalato, lo giuro, prova. Poi qui abbiamo l'altarino invece di Fullmetal Alchemist, quindi abbiamo tutti i fumetti, questi sono in inglese, cioè i fumetti scusate mi sto bestemmiando, abbiamo tutti i volumi dei manga racchiusi in volumetti da tre, questi ve li ho fatti tutti vedere nell'altro video. Anche The Art of Fullmetal Alchemist 1 e 2, quindi un libro con tipo delle tavole così, degli studi. La colana col simbolo di Edward, l'orologio da taschino degli Alchemisti di Stato che è svenuto e l'anello anche degli Alchemisti di Stato. L'unica cosa nuova è questo che è The Character Guide, Fullmetal Alchemist, quindi un po' parla di tutti i personaggi, sono un po' di contenuti speciali così che avevo già letto ma non avevo la mia copia, quindi ho detto va la prendo perché... Sì dai, e niente, ok. Invece qua abbiamo Il Ritorno dello Jedi, Una Nuova Speranza e L'Impero Colpisce Ancora, quindi praticamente i libri di Star Wars. E assaporate bene questo momento perché sarà probabilmente l'unica volta che sentirete questa frase, ma io prima di vedere i film di Star Wars ho letto i libri, ok, e ora facciamo finta che non abbia detto niente. Poi invece qui abbiamo un po' di libri della mia infanzia, quindi abbiamo un sacco di Bianca Pizzorno, sì, praticamente 80% Bianca Pizzorno, e poi anche del Roald Dahl. Sì, mi disturba anche a me che Bianca Pizzorno sia alla fine adesso che racchiuda come un sandwich Roald Dahl, non so perché, e mi dovrebbe anche arrivare un libro che pensavo di aver perso, dato via, che in verità l'avevo dato a mio cugino e per tutti questi anni l'ha tenuto lui, che è praticamente un mattonazzo così che racchiude il GGG, Matilda, gli sporcelli e le streghe di Roald Dahl, che ovviamente ho letto ma non ne trovavo più. E invece questa è un'altra sempre autrice della mia infanzia, ovvero Jacqueline Wilson, che scrive appunto questi libri un po' anche impegnati, eh, devo dire, per ragazzini. Quindi sì, un po' mi hanno traumatizzato, ma non troppo, quindi sì, parlava di questioni abbastanza, cioè non pesanti, però ecco, per una bambina di 11 anni, 10, no, 9-10 anni, mi sembrava un po' di leggere di cose veramente, uh, cioè nel senso tipo si parla di amore, ma anche di amori tossici, di rapporti con i genitori, di abusi, però in maniera proprio adatta ai ragazzi, secondo me. Quindi Jacqueline Wilson, un'autrice che sempre mi porterò in the heart. E infine qui abbiamo l'unica cosa che mi rimane della grande Thea Stilton, ovvero praticamente tutti i principi dei regni della fantasia, così sì, sono messe un po' a caso, ma vabbè, non abbiatemene. E niente, che ovviamente le Thea Sisters non ce le ho, che è quello che avrei voluto tenere, ma vabbè, non importa, mi tengo questi con i denti, proprio me li tengo, non me li potrete strappare mai nella vita. Allora, iniziamo da qui, che sono tutti i libri che ho qua di fianco a me, adesso ve li faccio vedere così, e adesso ve li faccio vedere uno a uno, perché così non avete il mal di mare. Ovviamente il calendarietto di Sissi, perché io e le mie ossessioni sempre on brand. Ok, allora, prima di tutto qui abbiamo il ramo sul lago di Como, abbiamo appunto il calendarietto di Sissi, perché sì, e poi abbiamo alcune biografie di donne. Allora, innanzitutto qui abbiamo La Zarina Alessandra di Carolee Erickson, che non ho ancora letto, è tipo il libro che ho da più tempo nella mia TBR, cioè nella mia pila di libri da leggere ancora, questo c'è da un tot che lo devo leggere. Poi qui abbiamo Sissi di Nicole Avril, ovviamente, e poi Elisabetta Prima di Carolee Erickson. Poi qui abbiamo invece un saggio, che però contiene anche dei casi studio, delle mini biografie appunto di alcune donne, si chiama Spezzate di Jude Ellison, Sadie Doyle, ed appunto un saggio che parla di come le donne vengono mostrate, soprattutto attraverso i media, di come non le percepiamo e le giudichiamo. E poi qui abbiamo alcuni di quelli della serie RBA, che ovviamente non ho ancora sfiorato, ma lo farò, giuro che lo farò, però da collezione sono molto carine. Io mi fermo qui, direi, perché arriva dopo a un certo limite, però intanto ho questi e sicuramente li guarderò per bene. Comunque abbiamo Maria Antonietta, Anna Bolena, Caterina De Medici, la Regina Vittoria, Lucrezia Borgia, Ah, e dietro anche sono bellissimi, che hanno l'illustrazione di spalle, sono bellissimi, Cleopatra, che è il primo che è uscito, e Agrippina, anche questo, molto bello. Invece qui abbiamo, allora, Giuseppina Bonaparte, molto bello, Maria Stuarda, Madame de Pompadour, molto bello questo vestito, ce l'ho anch'io, ne guarderò. Una persona di cui non ho mai sentito parlare assolutamente, no. Poi abbiamo Maria De Medici, infine Anita Garibaldi. Poi invece da là in cima abbiamo i libri di Amy Kaufman e J. Christophe, quindi abbiamo, abbiamo la trilogia di Illumine, quindi ovviamente abbiamo Illumine, Gemina, e Obsidio, e anche la trilogia di Aurora Rising, infatti abbiamo Aurora Rising, Aurora Burning, e Aurora's End. Poi in verità, qua abbiamo anche sotto una, un catalogo di profumi, che io, cioè, ho tenuto, ma senza nessun particolare scopo, cioè nel senso che è qui, ma non ho nessun legame affettivo verso questa rivista, quindi possiamo riporla dove l'abbiamo trovata. Poi come potete aver visto, abbiamo anche i miei libri del Grishaverse là in cima, e infatti abbiamo innanzitutto due libri, diciamo, un po' da collezione, ovvero questo, che è Lives of Saints, appoggio un attimo l'altro, che esiste anche in italiano, e parla un po', e parla un po' delle vite dei santi Grisha, e anche dei Language of Thorns, che per ora questo non esiste in italiano, ed è un libro che racchiude, diciamo, delle favole del mondo Grisha, quindi le favole che magari un bambino del mondo Grisha potrebbe sentire, ed è molto molto bello. Poi della trilogia Grisha in verità abbiamo solamente Ascedio, Ascedio, Tempesta e Rovine Ascesa, cioè il secondo e il terzo della trilogia, questo perché il primo in italiano ce l'abbiamo già nella prima edizione scrausissima, che vabbè, ve lo pietoso che non ho qua, però quelli appunto, avendocelo già, io l'ho letta poi in inglese, questa trilogia l'ho conclusa in inglese, però mia madre la voleva anche lei leggere, e mi dispiace, ma lei scippa il Darkling e Alina, infatti boh, sono veramente... eh, voglio emanciparmi, vabbè, poi abbiamo King of Skars in inglese, e anche Rule of Wolves, che non ho ancora letto nessuna dei due. Per concludere la mia collezione Grisha, ho Il Regno Corrotto in italiano, Sei di Corvi in italiano ce l'ha una mia amica, gliel'ho prestato, Sei di Cor... Oddio, scusate, di Sei di Corvi, e appunto Il Regno Corrotto in inglese, molto molto belle. Passiamo invece adesso a questo scaffale, che è quello che vedete sempre dietro di me, ora come al solito starò fissa in un punto, e vi farò vedere i libri uno a uno, appunto per non farvi venire il mal di mare. Ovviamente, il... Oh Gesù in Cristo, che brutta idea, vi odio! Allora, il cofanetto delle cronache lunare, adesso ve li faccio vedere uno alla volta. Abbiamo Cinder, Scarlet, Cress, Winter, e poi i due libretti bonus, ovvero Stars Above, che è una raccolta di storie, e Fairest, che in verità questo... dovrebbe essere letto prima di Winter, secondo me, per avere una cosa più completa, ma comunque è un libretto bonus. Poi abbiamo i miei libretti di Julie Marillier. ovviamente dobbiamo cominciare dalla trilogia di Blackthorn e Grimm. Se questo è il primo video che vedete di me, potreste avere già intuito che io ho delle ossessioni, e questo è uno di quelle. E abbiamo appunto Dreamer's Pool, che è il primo, poi Tower of Thorns, il secondo, e infine Den of Wolves, che è il terzo. Poi abbiamo due dei tre libri della figlia della foresta, e io ho questi due in italiano, il terzo ovviamente è introvabile, tutta questa trilogia è introvabile in italiano, ma sicuramente la continuerò in inglese. Comunque se abbiamo la figlia della foresta, ovviamente il primo, e il figlio delle ombre, che devo ancora leggere. Poi abbiamo altri due libri della Marillier, che fanno parte di una trilogia di companion, nel senso che sono, penso, ambientati nello stesso mondo, ma hanno protagonisti diversi, non lo so, io comunque se c'è scritto Giulia e Marie, me lo mangio a colazione, quindi abbiamo Willwood Dancing, guardate che bellissima copertina, veramente, e anche Sibeles, Secret Sibeles, vabbè comunque molto bello. E ovviamente questi belli devo ancora leggere, perché che cos'ha la priorità? Questa nuova trilogia, che sarà molto divertente e spiegarvi un po' cosa sia successo nel prossimo wrap-up, perché qualcuno mi ha scritto dicendomi, ma sai che hanno fatto la serie sequel di Blackthorn e Grimm? E io ho riso, ho detto, ma che cavolo dici? Cioè, se esistesse veramente una serie sequel, io lo saprei, sarei la prima a saperlo, ma figuriamoci, è tutto quello che desidero in questo momento, figuriamoci se già esiste. Ebbene, già esisteva, quindi io piangendo e tremando, e non sto scherzando, ho ordinato tutta questa trilogia, che sarà la prossima che divorerò, ovvero The Arp of Kings, che appunto, come potete vedere, ecco, lo sta per finire. Poi abbiamo il secondo, che dovrebbe essere A Dance with Fate, e infine A Song of Light, che tra l'altro è anche tipo l'ultimo libro che ha scritto la Marie Lea, che è uscito proprio a inverno scorso, l'ultimo inverno, quindi ottimo. Poi abbiamo la trilogia di Nona Grey, di cui ho letto solamente il primo, la trilogia qua di Nevernight, quindi ovviamente Nevernight, mai dimenticare, I Grandi Giochi, scusate, forse c'è stato un mini cambio di inquadratura, ma dettagli, e infine Alba Oscura. Poi abbiamo sempre DJ Christophe, L'Impero del Vampiro, a cui ho cambiato la cover, ci ho messo quella, diciamo, alternativa, perché mi piace di più, è più Tamara, ma ho lo spirito del libro, dall'altra parte, è quello. E qua c'è anche il librettino che si riceveva con il pre-order del libro, che è Il viaggio di Gabriel, non ve lo faccio vedere perché ci sono spoiler del libro, diciamo, sono tutte le tavole che poi trovate anche nell'edizione, cioè normale ovviamente, nell'edizione dell'Impero del Vampiro, ma sono tutte colorate, quindi molto carino. Poi abbiamo la trilogia della falce, quindi falce, Thunderhead e Rintocco. E questa è una delle mie serie di fantascienza preferite proprio in assoluto, quindi se vi appassiona comunque la distopia, la fantascienza, se volete provare anche qualcosa che non sia magari troppo complesso perché comunque young adult, pensato per un pubblico di ragazzi, è veramente bellissima. In più, adesso devono uscire le versioni in flessibile, quindi proprio l'occasione adatta per recuperarla. Poi abbiamo i due libri di Gideon, infatti abbiamo Gideon la nona e Haru la nona che devo ancora leggere, shame on me. E poi abbiamo la trilogia della guerra dei papaveri e quindi abbiamo appunto la guerra dei papaveri di Erev Quang, la repubblica del drago e la Den Fiamme, anche questa è una delle mie trilogie preferite in assoluto. Poi, per quanto riguarda i libri che vedete alla mia sinistra quando faccio i video, abbiamo Le cronache dell'acero e del ciliegio di Camille Montseux, devo ancora leggere il secondo libro e anche comprarlo, di questa trilogia, no, penso sarà forse una quadrilogia, boh, non si sa, è uscito anche il secondo per un italiano e questo mi era piaciuto tanto. Poi abbiamo la quadrilogia o forse, vabbè, trilogia, dei fidanzati dell'inverno dell'attraverso specchi, infatti abbiamo Fidanzati dell'inverno, Gli scomparsi di Chiardiluna, La memoria di Babel, o Babel, 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 vabbè, e infine Ekin Tempesta, che poi in verità con Ekin Tempesta con il pre-order ti davano anche questo libricino qua dell'attraverso specchi, carte di identità dei personaggi, dei bozzetti, così, della persona che ha illustrato le bellissime copertine, quindi niente, un po' di contenuti speciali, ecco, niente di trascendentale. E ora passiamo a questa parte della libreria. Allora, qui sotto invece abbiamo una stessa trilogia sia in italiano che in inglese, ovvero quella di A Thousand Pieces of You che inizia ovviamente con il primo A Thousand Pieces of You di Claudia Gray. Poi abbiamo Ten Thousand Skies Above You e A Million Words Without... No, With You. Sorry, sorry. Questa è una trilogia molto carina, molto 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 semplice in inglese e molto romantica, molto per ragazzi, molto tranquilla, avventurosa. Se siete appassionati come me di viaggi tra le dimensioni, questo è bellissimo. Ogni nuovo, ogni capitolo praticamente è una nuova dimensione e quindi io l'ho proprio mangiata a colazione. Come vi dicevo abbiamo anche la versione in italiano col cofanetto e quindi abbiamo il primo che è Firebird la caccia, Firebird la difesa e Firebird la resa dei conti. È sempre bello vedere come le case editrici italiane si inventano i modi per rovinare le copertine bellissime, veramente è impossibile rovinare quelle copertine ma ce l'hanno fatta devo dire. E poi abbiamo un po' random il prorato dell'albero delle arance di Samantha Shannon molto bello. Poi ancora più a casissimo abbiamo Una vita come tante di Anya Yanaghiara uno dei miei riferiti in assoluto ma c'è da aprire una grandissima parentesi quindi ignoratelo. Poi abbiamo questa duologia molto romance fantasy non male devo dire il primo non male il secondo è diventato un po' insipido devo dire la verità ovvero sto parlando di The Bridge Kingdom di Daniel Jensen e del seguito The Traitor Queen sempre di Daniel Jensen che è una duologia appunto di logia fantasy romance abbastanza carina che però niente di che ecco meno male che sono due libri la storia continua ma dal punto di vista di altri personaggi ecco loro non sono più protagonisti quindi io la chiudo qui ecco diciamo abbiamo proprio una serie e poi abbiamo proprio una serie che è trash ma lo dico proprio senza senza vergogna perché è una serie che è iniziata bene dai nel senso che faceva il suo ecco non pretendeva di essere di più di quello che era veramente però poi non ha avuto più senso e ovviamente l'ho finita tutta perché non sto bene vabbè stiamo parlando di Air Awakens di Alice Kova seguito da un libro che io non ho perché io il terzo non l'ho trovato in inglese l'ho letto in ebook penso si chiamasse tipo Fire Falling vabbè una roba del genere poi abbiamo il terzo che è Earth's End il quarto che è Water's Wrath mamma mia ma io veramente ma chi sono con sta pronuncia beh e l'ultimo Crystal Crown che vedi cioè io sono stata un po' attrata da queste copertine molto molto belle illustrate in una maniera che mi piace tanto ma no e poi abbiamo La chiave del tempo della Giada bello bello poi abbiamo due libri di uno stesso autore che io amo tantissimo e che sono un po' horror ecco diciamo abbiamo My Best Friends Exorcism di Grady Hendrix no vero? wow stava per cadere tutto ah comunque rifaccialo My Best Friend Exorcism di Grady Hendrix che è guardate un attimo l'edizione se non me l'ho già fatta vedere tantissime volte è una videocassetta una VHS bellissima come forse potrete aver intuito è ambientato negli anni 80 ed è un horror quindi diciamo la stessa atmosfera magari di Stranger Things riprende molto da cultura anni 80 cultura pop musica bello 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 e sempre di Grady Hendrix Horror Store questo libro che sembra un catalogo dell'Ikea perché infatti è ambientato in una sorta di brutta coppia dell'Ikea ma è un horror quindi bellissimo poi abbiamo due libri di un altro autore che io adoro abbastanza sì ovvero Matt Haig e abbiamo Come fermare il tempo e La biblioteca di mezzanotte e sono entrambi dei libri molto commoventi che parlano di tematiche abbastanza pesanti ma lo fanno comunque con leggerezza e tenerezza ecco se volete un po' di speranza nell'umanità questi sono molto carini next abbiamo la serie dell'Accademia dei Vampiri che è mio guilty pleasure cioè a 14 anni ero proprio innamorata di questa serie e abbiamo appunto il primo l'Accademia dei Vampiri Morsi di Ghiaccio la mia prof delle medie che voleva che leggessi Dostoievski questa leggenda Francesca Morsi di Ghiaccio va bene poi abbiamo Il bacio dell'ombra Promessa di Sangue Anime legate e infine l'ultimo sacrificio se mi chiedete se sono emozionata per la serie dell'Accademia dei Vampiri che devo uscire adesso sì non ho aspettative assolutamente più farà schifo più mi piacerà andiamo avanti e infine abbiamo il bellissimo cofanetto della chimera di Praga della trilogia della chimera di Praga dove abbiamo ovviamente Daughter of Smoke and Bone ovvero la chimera di Praga Days of Blood and Starlight che dovrebbe essere la città di sabbia in italiano e infine Dreams of Gods and Monsters ovvero sì sogni di mostre e divinità scusate se traballerò un po' ma questo è velocemente vi faccio vedere un po' questa parte qua della libreria che è più che altro di Mia sorella come si può ben vedere dall'ordine che lo contraddistingue che è diversamente da me come si può ben vedere dal fatto che Mia sorella sia una strega ma andiamo con calma allora abbiamo questo Porta Joy che penso che se solo provo a sfiorarlo parte un allarme esplode la dinamite e lei lo viene a sapere mi viene a picchiare quindi andiamo avanti qui abbiamo dei libri che ha letto per la scuola quindi abbiamo Mandragola di Macchiavelli e Papagalli Verdi senza coda Antigone e l'antologia di Spurriver che sono delle poesie poi qui abbiamo questo sacchettino che anche qua probabilmente se lo tocco esplode e le carte dei tarocchi Art Nouveau molto molto belli e delle piantine Cactus Vinti ma no verissime vi giuro che sono verissime e un teschio di un suo nemico e poi abbiamo L'Agnese va a morire una questione privata gli effetti secondari dei sogni come donna innamorata sette minuti dopo la mezzanotte bellissimo questo l'ho letto anch'io degli IQ e Ascolta la luna di Michael Morpurgo che non mi ricordo cosa aveva scritto anche qualcos'altro di molto conosciuto poi non mi ricordo beh andiamo avanti poi qui abbiamo allora innanzitutto delle cartoline di Cyberpunk 2077 che si trovavano dentro al al disco ecco non so sentite non sono una gamer ok ho giocato solo a Barbie Aventura Cavallo quindi non fatemi domande poi abbiamo The Art of The Last of Us parte 2 che anche questo lei l'ha giocato e le piace tantissimo e quindi abbiamo preso questo libro che magari ve lo faccio vedere un po' così sfogliato e poi abbiamo La Sfrontata Bellezza del Cosmo di Licio Troisi oltre l'onda di Hiroshidi scusatemi la bellissima pronuncia Muccia un libro su Muccia un libro su una mostra della Disney anche un fascicoletto con scritto Disney e l'arte beh dopo ve lo faccio vedere ve li sfoglio ve li faccio vedere per bene poi abbiamo Storia della Magia che è proprio quello che sembra e poi ovviamente dopo la scomparsa di Majorana e Uno Nessuno Centomila Cronache dell'Inspiegabile che vabbè mi ha distrutto l'infanzia questo libro ma va bene così e niente questo è lo scaffale della liste ora vi farò vedere alcuni di questi libri perché secondo me meritano allora il primo è Cronache dell'Inspiegabile secondo me molto molto bello appunto un po' strano cioè ci sono tutte queste coincidenze eventi paranormali eccetera e io appunto come vi dicevo alcune volte non ci ho dormito la notte perché sempre ho avuto un interesse per queste cose ma forse era meglio di no ci sono altri hobby tipo lavoro a maglia ma vabbè dettagli poi abbiamo appunto storia della magia questo è appunto parla appunto della storia di proprio quello che sembra dal titolo non so come spiegarvelo storia della magia dovete farvene una ragione è molto molto bello anche questo e anche lui poi abbiamo The Art of Last of Us parte 2 che questo se sente mia sorella che lo sto facendo vedere mi mangia l'orecchio destro ma gliel'ho pagato io quindi si attacca molto bello se siete appassionati molto molto bello interessante poia comunque poi qua abbiamo appunto il libro sulla mostra che c'è stata anche qui che sono andata a vedere su appunto l'arte giapponese very interesting un sacco di cose che non sapevo ne sto proprio a mezza e invece sono super belle le trovo veramente super belle poi abbiamo Mucha che è tipo il mio artista preferito quindi ovviamente anche qua ho sentito la mostra anzi no questo me l'avevano regalato talmente è la mia ossessione che me l'hanno pure regalato non tipo il best friend forever che sa delle mie ossessioni no una collega di mia madre quindi capite fin dove arrivano le mie ossessioni grazie Sandra poi appunto come vi dicevo abbiamo appunto questo fascicoletto sul mondo della Disney e anche il libro che contiene tutti i concept art che c'erano praticamente nella mostra che sono andata a vedere che c'era a Milano della Disney appunto che aveva tutti i bozzetti originali di un sacco di film quindi mi è piaciuto tanto si Frozen vabbè lasciamo perdere non si parla di Frozen e niente questo è tutto non avete idea di che Anfratti ho dovuto invadere comunque questa è la prossima libreria che esploreremo partendo da là in fondo abbiamo la trilogia di Hunger Games quindi abbiamo Hunger Games la ragazza di fuoco e il canto della rivolta poi abbiamo la trilogia di Caos di Patrick Ness una serie che non si calcola a nessuno e ovviamente il film orrendo non ha aiutato ma secondo me è molto valida e abbiamo Caos la fuga Caos il nemico e Caos la guerra poi abbiamo una serie che è proprio simbolo dell'era 2014 che a me all'inizio piaceva poi è andata sempre di più scemando cioè non mi è mai piaciuta esageratamente ma mi divertiva ma poi è peggiorata assolutamente abbiamo Regina Rossa Spada di vetro Gabbia del re che è assolutamente il libro più inutile che abbia mai letto seguito solamente da il libro di fisica e Tempesta di guerra l'ultimo poi abbiamo una delle trilogie di fantascienza che è assolutamente tra le mie preferite ovvero quella di Red Rising di Pierce Brown che come potete vedere sta facendo la muta ma vabbè non vi preoccupate poi abbiamo Golden Sun il secondo e il terzo Morning Star il spin off diciamo la nuova serie non ce l'ho perché non vedendo il secondo di questa nuova serie tradotto in italiano mi sta venendo un po' di caghetta quindi magari potrei iniziarla in inglese visto che qua non si muovono con le traduzioni o le interrompono vabbè poi come potete vedere abbiamo poi una serie di cui veramente non parlo mai ovvero quelle delle cronache lunare in italiano e abbiamo Cinder Scarlet Cress e Winter io aspetterò per sempre quei nuovi draghi delle cronache lunare in italiano come il Natale ma non arriveranno mai vabbè non importa e poi di Alice Sosman in italiano abbiamo Loveless molto 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 bello qui come potete vedere abbiamo un mappamondo così io che posso chiedere quando l'ho chiesto dove l'ho chiesto e abbiamo alcuni libri un po' così a casaccio abbiamo Dark Matter di Blake Crouch Francesca cosa ti sei fatta in questo momento al ditino tutta colpa del bookshelf tour cioè capito io arriverò alla fine di questo bookshelf tour che sarà piena di tagli abrasioni sarò veramente guarda sono già cadendo a pezzi vabbè comunque Dark Matter di Blake Crouch che è un libro per adulti diciamo nel senso che non è young adult ma non è che ci sono tematiche chissà quanto scabrose e parla di viaggio tra le dimensioni quindi ovviamente lo dovevo avere poi abbiamo una duologia sui viaggi nel tempo young adult composta da passenger e traveler che devo dire è andata un po' a cadere questa teologia cioè questa duologia è un po' noiosa dopo un po' e poi abbiamo questo libro davvero bello proprio anche solo esteticamente che si chiama Legacy di Kayla Clover di cui ho anche il secondo ma ce l'ho giù e è uno young adult che nessuno si è mai filato non era malissimo mi sono anche divertita ovviamente saga interrotta perché si mi sa che mi è arrivata un po' della muta di Red Rising in bocca schifo e poi invece qui abbiamo la serie di The Selection come potete vedere quindi andiamo in ordine reverso perché si e qui abbiamo la serie spin off la dilogia spin off assolutamente inutile ovvero quella composta da The Hair e The Crown poi abbiamo due raccolte di diciamo racconti curiosità così The Selection Stories che racchiude The Prince and the Guard e questo che è uscito dopo che è il mondo di Selection che contiene anche questo The Prince and the Guard e anche molte robe di più quindi io la mia quattordicenne diceva no devo averlo lo stesso perché ci sono contenuti bonus che devo leggere e vabbè ma poi abbiamo la trilogia proprio madre that started it all cioè quella proprio che ha cambiato l'ordine del mondo ovvero quella composta da The Selection The Elite e The One this is the next and last libreria allora qui invece abbiamo una trilogia che io consiglio spesso perché non si caga mai nessuno però secondo me soprattutto se vi piace qualcosa di particolare come la Traversa Specchi questa vi piacerà e sto parlando di Paper Magician di Charlie e Goldberg come potete vedere Holmberg cosa cavolo ho detto ma come potete vedere sono libri brevissimi quindi vabbè ve li consiglio davvero tanto il secondo è Glass Magician e il terzo è Master Magician anche un caso stranissimo in quella copertina è mantenuta quella originale ed è molto bella poi abbiamo un'altra trilogia stupenda ovvero quella dell'orso e l'usignolo di Catherine Arden poi la ragazza nella torre il secondo e il terzo l'inverno della strega poi preparatevi alla valanga Sarajimas perché sì allora prima le edizioni italiane allora abbiamo la trilogia della corte di Rose Spine quindi la corte di Rose Spine la corte di Nebbia e Furia la corte di Ali Rovina con questa bellissima sfiscia di Parmalat cioè di 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 latte gramarolo non boh e poi la corte di Fiamma Argento un libro che ho scambiato e che però devo ancora leggere poi abbiamo le edizioni invece italiane del trono di Ghiaccio e abbiamo il trono di Ghiaccio sì sono molto divertente la corona di Mezzanotte e la corona di Fuoco dopo aver visto queste edizioni potete capire che io sono in verità un dinosauro poi abbiamo le edizioni diciamo più nuove quindi abbiamo la lama dell'assassina la regina delle ombre l'impero del tempeste la torre dell'alba e il mattonazzo che è il regno di cenere quest'ordine che vi ho fatto vedere non è quello giusto quindi è solo messo così per ordine di altezza per proprio ordine quindi però non guardatelo come ordine di lettura i tre libri della corte di Rose Spine in inglese perché io all'inizio li avevo letti così poi dopo un po' di anni sono usciti in italiano quindi all'inizio li avevo letti così e quindi abbiamo la A Court of Thorns and Roses A Court of Mist and Fury e A Court of Wings and Ruin ok la carrellata Sara Gemassa è finita ora vi faccio vedere l'ultima trilogia proprio che vi farò vedere in questo Bookshelf Tour ovvero la trilogia di The Queen of the Tearling questa devo dire una trilogia che si sono cacati in poco però secondo me merita e abbiamo The Queen of the Tearling che poi è proprio un'edizione davvero davvero bella c'è anche tipo aiuto non voglio uccidere qualcuno o me stessa abbiamo anche qua la mappa che vabbè sono una professional quindi non ve la farò vedere poi The Invasion of the Tearling il secondo e infine il terzo The Fate of the Tearling non ci posso credere raga ce l'abbiamo fatta qualche ferita dopo qualche anno dopo ce l'abbiamo fatta quindi niente io vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima puntata del Bookshelf Tour perché ovviamente non è finita qui e io voglio morire e niente se vi piace la mia faccia iscrivetevi pure se vi piacciono le cavolate che dico ne dico molte di più su Instagram e Gudrits che come al solito sono in descrizione e noi ci vediamo alla prossima bye bye il cerotto il cerotto non mi fa cliccare